Ecco mi sembra questo look che... Sì 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 siamo nella mappa dove canta quella la ora mi metterò a ascoltarla mi raccomando non la picchiate sennò non posso ascoltare la mia musica scusate fammi sentire esci dalla giuseppe non provare a toccarla ti vorrei fare notare che sei sul nulla ma sì lo so ma dove si è attaccata la palla guarda alla cantante credo grazie andiamo ok il primo punto è preso ok 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 Ah! 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 Ok, primo punto presso. Ok. Andiamo al secondo, venite venite. Ah! Ah! Quasi ci metto sicuro con basso. Ah! C'è una zaria rompipapo. Per ora ve la faccio endolare a bordo. Ah, va bene, nessuno mi ha mai fotte. Si, si. Va bene. Ci siamo tutti qua, e tu prendi lì. Si, si. Ciao! Ah! Vittoria! Easy! Cioè proprio, non se ne sono accorti zero! Niente. Vabbè. Tranquillamente. Io ti darò...